Vi ricordo la frase di Vincent Van Gogh Sai tu ciò che fa spalire questa prigione è un affetto profondo, serio essere amici, essere fratelli amare palanca la prigione per potere sovrapposto per grazia potente ma chi non riesce ad avere questo rimane chiuso nella morte ma dove rinasce la simpatia lì rinasce anche la vita perché l'uomo possa vivere con entusiasmo e con valdanza deve riconoscere una presenza buona che gli permetta di rialzarsi nonostante tutti gli errori che possa compiere noi tutti siamo come un bimbo che ha bisogno di essere guardato mentre corre si diverte ed è felice la felicità è tale solo può essere condivisa come pure la bellezza può essere gustata solo quando possiamo assaporarla con qualcun altro lo studente è un po' come mio figlio un po' discolo, spaticato ma sempre dentro ancora complimenti per come dovrete affrontare gli esami di Stato un abbraccio da noi tutti grazie a presto il grande professore Biancio grazie a tutti